La vera domanda sarebbe chi parte e chi resta. I secondi saranno molti di più in questa estate, poco estate, dove la crisi è più presente del sole. Non cambia invece la proposta che da ormai 32 anni l'Associazione Artigiani CGA di Mestre propone la città nel mese di agosto, quando tra i vacanzieri ci sono anche i fornitori di servizi per le 85.000 famiglie dell'area. Questa iniziativa è molto importante per reperire l'artigiano, il fabbro, il parrucchiere, piuttosto che l'elettricista o l'idralico, quindi quando si ha un'emergenza in casa o nella propria azienda, trovare praticamente il professionista giusto, il professionista abilitato e soprattutto non incorrere in abusivi o lavoratori nero che soprattutto nel periodo estivo sono molto molto presenti e diffusi nel nostro territorio. Oltre mille professionisti consultabili nel classico libricino recapitato per posto in tutte le case dei mestreni, un'iniziativa che serve anche a concordare fra le singole categorie di artigiani un calendario di apertura e chiusura che tenga conto del presidio necessario per i cittadini. Loro stessi sono i primi ad affrontare momenti difficili e stringere i denti per tenere aperta l'attività. Purtroppo l'artigianato nel comune di Venezia sta soffrendo tremendamente. Negli ultimi sei anni sono cessate oltre 320 aziende. Complessivamente lo stock al 30 giugno di quest'anno è pari a poco più di 5.000 aziende artigiane.